Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su slide2mac.com da Francesco Siciliani Continuiamo con i nostri tutorial per iMovie per Mac Andiamo a vedere una nuova puntata nella quale parleremo di editing video Quindi andremo a vedere meglio gli strumenti per l'editing video E andremo anche a capire come registrare un commento audio sotto i clip Come prima cosa apriamo il nostro classico progetto, quello che abbiamo iniziato qualche settimana fa E iniziamo a vedere come possiamo gestire meglio le varie clip Se io seleziono una clip avrò a disposizione in alto a destra alcuni pulsanti con alcune funzionalità Di cui vi avevo già parlato in modo molto molto rapido in alcune altre vecchie puntate Allora andiamo a vedere qui che cosa possiamo fare di specifico sui vari tipi di clip Quindi parliamo di clip video Allora selezionando un clip video avremo a disposizione un'opzione Che ci permetterà di andare a regolare i colori e il bilanciamento dei colori e del bianco Quindi potremo con la prima opzione scegliere il bilanciamento automatico Oppure scegliere di adeguare il colore ad un altro fotogramma Quindi sceglieremo un fotogramma che magari è venuto meglio degli altri Potremo adeguare il colore a quel fotogramma Potremo scegliere il bilanciamento del bianco toccando il punto di bianco che vogliamo utilizzare all'interno del video Possiamo comunque sempre tornare indietro per ogni tipo di regolazione E possiamo anche andare a regolare il bilanciamento della tonalità della pelle Se vogliamo avere un contrasto sulla pelle molto naturale e poco artefatto Quindi per avere una buona resa anche della tonalità della pelle Ovviamente se nel file video c'è una ripresa che riprenda ovviamente il colore della pelle Dal secondo pulsante delle regolazioni possiamo gestire contrasto, luminosità e le varie opzioni di luce e ombra Quindi in questo caso io sto cercando di aumentare un po' la parte scura, la parte buia dell'immagine Per far risaltare di più il nero vicino ai sassi In questo modo sto lavorando sul contrasto e sulla luminosità Ma posso anche regolare la saturazione del colore Quindi se tenerla più in bianco e nero o più vivida E scegliere anche la temperatura, quindi se calda o fredda Quindi tendente al giallino oppure all'azzurro Ancora, terza opzione, abbiamo a disposizione le regolazioni sulla dimensione del clip Quindi possiamo ritagliare il nostro clip Oppure lasciarlo adattato, quindi per poter vedere tutto il clip intero Così com'è, senza andare a tagliare nessuna parte dell'immagine Oppure con l'utilizzo del Ken Balance Il Ken Balance, come vi avevo già detto, che viene applicato automaticamente sulle varie immagini ferme Quindi sulle immagini fisse, è un effetto molto interessante che tiene le immagini in movimento Senza che si possa notare una staticità, quindi per avere sempre le immagini dinamiche Poi possiamo anche andare a regolare la stabilizzazione Quindi se abbiamo un video non stabilizzato Perché magari non abbiamo utilizzato un dispositivo con una stabilizzazione Possiamo sempre far calcolare tutto il parametro relativo alla stabilizzazione al nostro Mac E farlo migliorare per quanto possibile direttamente da iMovie Cercherà il programma di limitare al minimo tutte le vibrazioni fastidiose dovute ad una errata stabilizzazione del video Ad esempio se utilizzate un iPhone 6 Plus però non preoccupatevi più di tanto Perché questo tipo di dispositivo ha già uno stabilizzatore ottico Che funziona meglio rispetto a quello digitale presente sulla maggior parte dei dispositivi mobili Come ad esempio gli smartphone Comunque fate sempre una valutazione della stabilizzazione del video Anche con attrezzature differenti, quindi anche con videocamere e fotocamere Quando abbiamo anche una traccia audio nel nostro progetto In questo caso in questa clip selezionata non c'è Quindi lo faccio vedere dalla clip che abbiamo di fondo Avevamo già visto nelle altre puntate, ve lo ripeto giusto un secondo Abbiamo a disposizione alcune opzioni relative al volume, all'equalizzazione, agli effetti audio, alla velocità E anche abbiamo una possibilità interessante che è quella di invertire l'audio Quindi per farlo riprodurre in modo inverso Molto interessante quindi avere tutto questo direttamente a disposizione di iMovie Nelle versioni precedenti di iMovie, se qualcuno le ha utilizzate ricorderà C'erano delle opzioni un po' più avanzate Come ad esempio l'aggiunta di picture in picture e comunque di sovrapposizione dei clip Ci sono ancora queste opzioni anche se sono state compattate e semplificate Quindi non le abbiamo più come dei tipi di regolazioni a parte Ma saranno disponibili quando ne avremo la necessità Ad esempio se sovrapponiamo due tipi di clip Avremo a disposizione la possibilità di scegliere come sovrapporle Quindi se ad esempio in picture in picture Oppure se sovrapporle normalmente Quindi potremo sceglierne l'opacità e la dissolvenza Oppure anche ad esempio affiancare i filmati Oppure utilizzare il green screen Che ci permetterà di isolare le parti all'esterno Diciamo quelle che non riguardano il colore del green screen In modo tale da isolare lo sfondo dal soggetto E quindi poter sovrapporre altri clip dietro il soggetto Ad esempio se io mi metto davanti alla telecamera Con dietro di me un fondale verde Potrò isolare il fondale verde Toglierlo e poter aggiungere un'altra immagine dietro di me Andiamo a vedere l'ultima cosa Quindi come registrare un commento audio Dal pulsante con il microfono Potremo andare a iniziare la procedura di registrazione Potremo scegliere il volume d'ingresso Se ammutolire il progetto audio Quindi l'audio del nostro progetto in lavorazione Potremo scegliere anche quale sorgente d'ingresso utilizzare Quindi se il microfono è integrato O un microfono esterno Una scheda audio esterna Insomma qualsiasi altra periferica di acquisizione audio Connessa al nostro Mac Poi potremo visualizzare sempre il livello dall'icona Che si muove in base a come parliamo E possiamo anche andare a registrare Cliccando sul pulsante di registrazione Quando avremo finito potremo premere su fine E la nostra traccia audio verrà aggiunta al nostro progetto Utile per commentare un video Anche dopo averlo ripreso Quindi per fare un video in un'impresa diretta Con l'audio quindi separato Bene ragazzi Per questa puntata noi abbiamo terminato Io vi ringrazio per avermi seguito Noi ci rivediamo con gli altri video tutorial su Slide2Mac Ma anche con i Noobs Corner e con Top Up of the Month Da Francesco Siciliani per questo video è tutto A presto e al prossimo video A presto e al prossimo video A presto e al prossimo video A presto e al prossimo video